non devi chiudere ma non devi chiudere fino a quando sei qua cosa gli ho detto al Sergio fra moto a valle pilota a monte se no succede così tira giù il davanti non c'è la fatica della mamma cosa ti ho appena detto il La quarta è un po' lunga, la terza è un po' corta, adesso tu che marcia eri? Adesso quarta, le prime due volte ho provato in terza, però senti come urlavo il motore? E arrivi trovo in piccato, ho detto prova in quarta, solo che appena perdi un po' di velocità, no? Non con la terza sono arrivato lì, ma ho sbagliato io sotto qua, perché ho fatto ancora come quella di prima che chiudevo perché mi si alzava e ho maciulato il pezzettino, però la terza è esagerata, è la quarta di quella di prima ma il doppio, no, perdi lì, perdi lì. Rallenti troppo là, ma quando arrivi là chiudi, a parte che tu l'hai tagliata, l'hai tagliata lì dove lui, fai anche bene, però il problema è che dopo non sei arrivato su perché dopo l'hai corretta qua, l'hai tagliata diritta e l'hai fatta bene, però dopo quando ti fa la curvetta che gli dai l'attimo che chiudi, poi perdi velocità su qua. Mi sa che come eri prima, se la facevi giusta arrivavi su, cazzo, perché eri lì giusto. No, l'altra volta quando eravamo venuti a tagliare gli alberi, è un momento diverso il terreno. Eh, cazzo, adesso è... Ho avuto un paio di volte, poi ero venuto su bene. Adesso non vieni su più di qua. Ma più che altro il terreno è ancora ancora, sono le foglie che... Bravo, non chiudere. Niente a fare. Basta, via, out, fuori dalle balle tutti. Via, andale. Te stai lì che arriviamo, eh. Sì, penso che si muove più. Comunque questo, quando lo peli via è così, eh, dopo non vieni su più, eh. Tu prima mi hai detto pulisco e vado giù, se lo peli via non vieni su più. Perché sembrano le foglie ma sono quelle che ti attaccano sotto un pelino, le schiacci giù ti attacca. Ma l'hai chiamata te l'ambulanza? Non fare il pirla, eh. Così ce n'è. Così ce n'è, inserito, o che difficile.